L'Associazione Società Civile ha organizzato nell'ambito del premio Borsellino Tutto l'Anno 2024 una rassegna educativa in vista della giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio in ricordo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz nel 1945. La rassegna dal titolo Se comprendere è impossibile e conoscere è necessario e composta dai dieci appuntamenti, il primo si è svolto oggi presso il convitto a Teramo. L'obiettivo è quello di ricordare le vittime dell'olocausto e soprattutto di interrogarsi sul perché della Shoah e della discriminazione dell'uomo contro altri uomini che ancora oggi si perpetua. Il premio Borsellino anche quest'anno inizia le attività in favore delle scuole e quindi degli studenti ma non solo, parlando di Shoah, iniziamo oggi quindi il 25 gennaio e terminiamo il 2 febbraio a Pescara. Una serie di dieci appuntamenti, appunto nelle scuole, qui a Teramo, ma anche a Roseto, ad Albariatica, a Corropoli, a Pescara, a Chieti e chiudiamo all'Aquila con Simone Cristicchi. Una serie importante di iniziative direi perché specialmente in questo momento in cui c'è un riverbero di questi rigurgiti nazisti e di razzismo che si manifestano in tutti gli ambiti, da quello sportivo a quello delle manifestazioni antiebraiche, è importante ricordare a questi ragazzi quello che è successo perché riprendendo una nota frase di Primo Levi, questo non possa più succedere. La rassegna prevede la proiezione di film, documentari e testimonianze seguiti da dibattiti e riflessioni guidate da esperti e docenti. Molto importante è l'approccio perché cosa è avvenuto durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale con la Shoah e ormai ampiamente risaputo, la storiografia ci ha dettagliato quello che è avvenuto in Europa e però è anche bene avere un approccio per così dire critico e un pochino più complesso perché quella vicenda si innesta anche, è legata a doppio filo anche con la triste attualità che stiamo vivendo in questi giorni e quindi ecco oggi cercheremo di dare questo tipo di messaggio, questo tipo di approccio cercando di essere il più aderenti possibili alla realtà e ai fatti e al loro valore.